Rubrica dell'agricoltore, Agricolo Jones. E benvenuti amici e soprattutto buonasera! ProVilip! Stavolta anche Italo abbiamo, Italo qui vicino a me, come stai Italo? Bastanza bene. Salutiamo i ragazzi del studio ma soprattutto salutiamo a Cisca! Posso aiutare anche a me? Saiutati! La prossima volta che te vai in discoteca non ti appare un altro canale sulla testa! Cos'è successo Italo? Perché mi avevo sentito dire, ma mi piace mai il ciccio. Mi ha detto che andai anche io in discoteca perché se ne hai pa sbaglio... Ma cosa dove sei andato? Andai! Perciò ti andai a bollare la serata all'Issio. E siccome hai l'artrite perforante... Poaretto! Che ogni tanto... E se avevi la mamma bloccata così... E hop! E io non mangio! Par sotto! Par sotto! E io che ho pensato che... Insomma, dovevo fare un pianto afferuglio! E io volevo andare in Pertegana al ciccio! Eh sì! Mi manchiamo caso qui! Prossima volta il Pertegana al ciccio! E ora non ti capi più che non hai la sua testa! Qui prossima volta se ti vedi un 1.3 sotto casa... Te sai che sei io! Perché il ciccio diventa violento se che... Eh! Ma insomma... Si viene un po' con te... E lei è abituata che tutte... Come tutti i cristiani! Che tutte le femmine cadano ai suoi piedi appena che vedi il 1.3 Fiat! Eh ciò! Eh ciccio ciccio... Che a fine settimana te vedi il Pertegana! Eh può essere! E ora! Allora ci scrive abbiamo un caso classico che ormai siamo anche a stufi a risolvere! Fianti! Però si vede che se continuano a scrivere, continuano a fare fasca, continuano a fare tutto... Vuol dire che c'è ancora questo problema che non hanno capito ancora come succede! E dice... Caro agricoltore agricolo! Hago il vino che mi fa ancora robato! Beh... Ascolta... Ciamociccio! Ciamociccio perché... Questo si è... La chiamata locale! Cosa si occupa? Cosa si occupa? Cosa si occupa? Cosa si occupa? No lo so! Non ho scritto! Sempre io! Ancora lui! Aspetta che facciamo però tramite ciccio! Ah te hai la chiamata diretta... Ciccio! Passami Martino vabbè io! E stai insieme? No adesso io mi passo... E il duplex! Ah pensavo che aveva il duplex! Ascolta! Va fatti io mettere in culo! Tiri anche il tuo giro che fa il baltone! Oh la! E basta! E speriamo di aver risolto questo Martino da Ballosa! È vero? Sì ma anche io! Ah e tu Martino cambia mestiere! No! Butta giù! Fai un campo da tennis! Esatto! Se non hai niente da fare... Se non hai niente da fare... Magari vai qualche concessionaria che gli arrivano gli ultimi modelli arrivati... Vedi se hai prefatto su un po' di soldi... Se no fate un mutuo... Comprati... Un... Mie tre Fiat... E non ti pensi più al vino! Non ti pensi più al vino! Bevate una birra! Cosa hai dovuto fare? Pianta una birra di birra! Per esempio! Magari vai a fare il baltone! Magari ti va meglio con la birra non fare il baltone! Prova! Altre strade... Oppure metti su un'azienda dell'aseo... A te sei a posto... Ormai! Ormai! Tutto quanto il vino ti avevi fatto... E vi fuori speciali! E vi fuori l'aseo di Martino... Bisogna che troviamo un carino... E insieme ti metti anche un bel sacchetto di versi in tizia speciali! Sato! Per esempio! Che ricetta siete? Che ora ti vendi meglio! Che ricetta siete? E sei! Versi... Qui è così... Non lo capisco benissimo... Però penso che le fassi... Non lo scrivo! Penso che le fassi anche a me mogliere! Sì! Versi in tizia speciali! E ricordiamoci! Attento perché mi mi sa che te ne hai mai una scanafada che... Mi avevo cercato prima! Ecco! E ora stai attento a non fare gas perché dietro abbiamo il fuoco! Perché nella nostra nuova sede qui a Rino non ci facciamo mancare niente! Bene! Allora ragazzi salutiamo ancora i nostri sponsor e anche a CESCA! E ci vediamo la settimana prossima con una nuova rubrica l'agricoltura agricola ma soprattutto con... Eeeh! Italo! Ciao Cisca! Mi raccomando sta piñare a nai! Rulot! Ciccio! Rubrica dell'agricoltore Agricolo Jones Eeeh! 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 Eeeh!